da Tami, Cecchetto, Angi si preparano per la categoria ino 45 Kilo Tami Fregna, Vittorio, Tessagio, Tami si preparano per la finale Albertin, Gelli da Tamiuno, Trevisi, Anai da Tamiuno, Pampioli, Gigi si preparano un'indicina, Pampioli, Gigi da Tamiuno, Pampioli, Gigi Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, noi, no,i, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.